Lo scrittore e critico uruguaiano Horacio Chiroga diceva che la scrittura è come una freccia diretta verso un bersaglio. Come nel tiro con l'arco intendeva per suscitare un'emozione, per costruire un personaggio memorabile, per orientare un lettore all'interno di un'atmosfera di un'ambientazione a lui sconosciute, serve precisione. In questo corso vi aiuterò a prendere la mira, la vostra capacità di osservare e a scoccare la freccia, il gesto dello scrivere. Andremo in cerca di quei rituali personali che possano favorire la vostra scrittura aiutandovi a superare il blocco della pagina bianca, studieremo e ruberemo le mosse geniali degli autori che hanno fatto la storia della letteratura e soprattutto ci eserciteremo sui principi basilari della scrittura, dall'incipit al dialogo, dal personaggio al conflitto, dalla tensione narrativa alla punteggiatura, con il chiaro obiettivo di schivare le trappole di una scrittura vaga e inesatta e raggiungere invece quella prosa leggera e precisa che tanto amava Italo Calvino. Alla fine del corso vi ritroverete con le vostre prime 10.000 battute editate e pronte per poter proseguire da soli questa avventura, puntando dritti al bersaglio. Io sono Marco Merighi e vi aspetto al nuovo corso online della scuola Holden, verso il romanzo, allenare la precisione. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.